I titoli, Rai, i titoli! Ah, ciao! I titoli! Beta Mike, domani mi sposo. Ma sì, ma ti sposi se stai a guardare qua alle 21.52 la live con un titolo sbagliato pure? Ma siamo pazzi! Ma vatti a scopare tua moglie! Vatti a scopare tua moglie o tua suocera! Fai un casino! Scopali la sorella di tua moglie! Fai un casino! Fai il content! Fai il content! Di che non vuoi sposarti! Fai un casino clamoroso! Fai un casino! Scopati la moglie di tua moglie! Fai un casino! Ste robe del genere! Piscia sugli invitati! Tira fuori il cazzo davanti al prete! E dice lui, nega! Lui non lo vuole questo matrimonio! E ti spari una sega in chiesa! Così, questo è il content che vogliamo vedere su Twitch! Questo è il content! Vogliamo vedere questo! Grazie a tutti.